Vuole agire concretamente e trovare un complemento al trattamento convenzionale del dolore? La medicina empirica offre numerose soluzioni. Ciò che le accomuna è che valutano i sintomi nel contesto dello stato generale della persona. La medicina empirica mira quindi a ripristinare l'equilibrio e a rafforzare la capacità di autoregolazione. La base di ogni medicina empirica è uno stile di vita sano, fare attività fisica, seguire una dieta antinfiammatoria, ridurre il consumo di alcol, smettere di fumare, dormire a sufficienza e dedicare spazi al relax quotidiano. Le terapie offerte dalla medicina empirica sono molto individuali, spesso richiedono una diagnosi approfondita. Ecco quattro esempi. La fitoterapia utilizza la conoscenza tradizionale delle piante medicinali e delle loro proprietà antinfiammatorie e analgesiche. La medicina antroposofica ampliata tiene conto anche della dimensione psichica e spirituale dell'essere umano. L'omeoterapia prescrive dei medicamenti secondo il principio di similitudine con l'obiettivo di ripristinare l'equilibrio dell'energia vitale. La medicina tradizionale cinese. Le sue terapie manuali e i numerosi rimedi si basano su 3.000 anni di esperienza. Qualunque tipo di medicina empirica scelga, si rivolga a una specialista o a uno specialista di fiducia. La medicina tradizionale cinese.